A dei romani è venuta fuori, non sarà di mozzi. Era una buchetta, è diventato una voracchina, è una sorta di sparti traffico nel bel mezzo di via Marcio Mutio, torre spaccata, Roma, capitale della Repubblica Italiana. Un signore ne è arrivato nel quartiere, si informa speranzoso. Ma non è che c'è qualche riverta più lunga? No, riverta ecologica, non c'è là sotto. No, è una questione di contenzioso. Lo scambio di battute dal balcone al piano strada descrive il paradosso romano, il contenzioso, l'abito che indossa Roma in ogni stagione, per ogni problema. Questa buca sta qui da due anni. Era prima una buca molto piccola che poi è diventata quella che è diventata. E nel frattempo sono nati gli alberi. L'altro anno, vedi, pure quest'anno stanno mettendoci le palline, l'avano addobbato come albero di Natale. Questo ora diventerà un albero, del continua così. È una cosa indecente. Lo spirito caustico dei romani ha trasformato una buca diventata voragine in un'occasione per abbellire uno spito di città abbandonata. Le palline di Natale e i festoni restituiscono il sorriso di un pezzo di strada degradata. Ma solo per il tempo delle feste la buchetta diventata voragine è stata transennata. Si sono aggiunto un po' di indicazioni stradali per evitare di finirci dentro, in attesa che il contenzioso, se di contenzioso si tratta, tagli il traguardo. Il momento delle...